Nella mattinata di ieri, una ragazza nissena denunciava di aver subito il furto del proprio smartphone avvenuto nella giornata di domenica mentre si trovava nella località balneare San Leone ad Agrigento. In particolare, la ragazza spiegava agli agenti che unitamente ad un gruppo di amici prendevano posto sulla battigia della spiaggia, posando le borse nei pressi. Poco dopo, nel riprendere la borsa, si avvedeva del furto del proprio smartphone Samsung Galaxy S2. Una donna di origine romena, residente a Caltanissetta, denunciava agli agenti che nel pomeriggio di sabato, sempre in località San Leone, dove si trovava in compagnia della propria figlia, dopo aver passeggiato tra le bancarelle del lungomare, si accorgeva della mancanza dello smartphone in uso alla figlia. Come riferito dalla donna, il cellulare sarebbe stato sottratto dei gnoti alla ragazza a causa della confusione. Indaga la polizia.